La prima vera prova del calendario podistico regionale è andata in scena a Capriva sui saliscendi del Collio in un ambiente perfetto che fa pensare che questo sarà un appuntamento importante anche per le prossime stagioni. La stagione del running in Friuli Venezia Giulia comincia a Capriva del Friuli con la prima maratonina del Collio. Un po' meno di 500 persone e una giornata di sole hanno completato questo successo che ha visto la gara sostituta di quella di Medea e ha rivelatasi una grande infezione da parte dei marciatori di Gorizia. Il percorso mi è piaciuto tantissimo, molto vallonato nella prima parte, i primi 4,5 km. Dopodiché era anche regolare, non c'era troppa salita, qualche pezzo di sterrato leggero però comunque con un paesaggio che anche vista la giornata ha regalato parecchie soddisfazioni. Proprio anche correndo ho avuto modo, nonostante la fatica, di apprezzare il paesaggio, molto bello veramente. A completare il podio per i maschi, al secondo posto Nech Lokar dell'Sd Nanos K2 Sport e al terzo Dernot Hammer di Klagenfurt. Anche il podio femminile è stato internazionale con il primo posto della slovena Lucia Kerskog davanti alla triestina Giulia Schillani e al terzo posto Peta Tarnik, slovena pure lei. Qui quest'oggi ci tengo a sottolineare, avevamo più di 50 volontari lungo le strade, grazie alla protezione civile comunale e anche quella di distretto, grazie al gruppo marciatori di Gorizia, c'è la Proloco che ha cercato di alietare poi gli atleti a fine gara e c'era soprattutto la parte sportiva del gruppo marciatori, quindi un lavoro di squadra, volontariato, istituzioni, i privati. Il prossimo anno, come dicevo prima, puntiamo a coinvolgere le aziende agricole del paese. Insomma, ve la volete tenere? Ce la vogliamo assolutamente tenere, coccoleremo insomma il gruppo marciatori di Gorizia.